pace fratelli sorelle amici cari dio vi benedica gloria al signore per questo nuovo giorno che egli ci concede leggiamo insieme nella seconda timotio al capitolo 2 al verso 3 dove l'apostolo paolo ispirato dallo spirito santo scrive sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di cristo gesù se siamo dei veri cristiani abbiamo sicuramente imparato l'amore di cristo e questo amore ci spinge ad avere un'attitudine un comportamento diverso da quello che avremmo se non avessimo conosciuto il signore gli uomini sicuramente possono esserci nemici per via della nostra fede d'altronde questo gesù lo aveva profetizzato lo troviamo scritto in vangelo di giovanni a capitolo 15 del verso 18 quando egli disse se uno o meglio se il mondo vi odia sapete bene che prima di voi ho odiato me se fosse del mondo il mondo amerebbe quello che è suo poiché non siete del mondo ma io ho scelto voi in mezzo al mondo per questo il mondo vi odia ricordatevi aggiunge gesù della parola che vi ho detta il servo non è più grande del suo signore se dunque hanno perseguitato me perseguiteranno anche voi se hanno osservato la mia parola osserveranno anche la vostra ma tutto questo ve lo faranno a causa del mio nome perché non conoscono colui che mi ha mandato e quindi possiamo avere dicevamo dei nemici a causa della nostra fede ma questi non devono essere visti da noi come dei nemici da combattere ma devono essere visti come anime da conquistare con amore all'amore di cristo sì perché quando abbiamo realizzato la grazia di dio una delle prime cose che la scrittura ci ha insegnato è proprio che il nostro combattimento non è contro carne e sangue la notte in cui gesù fu preso dalle guardie pietro nel tentativo di difenderlo sguainò la spada e provò a combattere un combattimento che però non era quello che il signore voleva tant'è che pietro venne obbligato dal signore riporre la spada nel fodero ed egli stesso il signore gesù guarì quel servo malco che era stato da pietro ferito sì perché se il signore avesse voluto avrebbe potuto chiamare legioni d'angeli ma non lo fece perché egli aveva un combattimento da combattere che non era rilasciamoci al discorso di prima contro carne o sangue ma era contro i principati le potenze i dominatori di questo mondo di tenebre le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti e il combattimento nostro è proprio di questo tipo ce lo dice la parola di dio ce lo insegna l'apostolo paolo satana cerca di attaccarci in tutti i modi cerca in qualche modo di insinuare dei dubbi nella nostra mente cerca di far nascere dei sentimenti carnali come gelosie invidie rancori e altre cose simili cerca in tutti i modi di farci capitolare in modo da dare una cattiva testimonianza oppure in modo tale da poter agire difformemente dall'insegnamento della scrittura ma noi dobbiamo combattere contro tutte queste cose perché come dice la parola di dio nel libro dell'ecclesiaste non c'è congedo in tempo di guerra e il tempo che stiamo vivendo è proprio un tempo di battaglia di battaglia spirituale intendo e questa battaglia terminerà quando il giorno saremo nella presenza di dio quando se il signore non torna prima ci addormenteremo e ci risveglieremo nella presenza dell'eterno o se il signore dovesse tornare prima quando egli ci trasformerà in un batter d'occhio e ci riappirà con sé nell'aria ma fino a quel giorno dobbiamo combattere non possiamo fare quello che fece davide allora quando il popolo di dio era sul fronte ed egli decise di rimanere a casa era il tempo in cui si facevano le guerre ma davide non andò in guerra e per questo peccò lo sappiamo bene non solo adulterio ma egli si macchiò del sangue di uria littita e commise cose che non si addicono di certo una persona che ama il signore il dio ci aiuti a non disertare questa battaglia spirituale ma scendere sul fronte sapendo che della nostra parte c'è il signore agendo come davide agì non allora quando rimase a casa ma quando c'era un gigante di nome goliate che sfidava il popolo del signore nessuno aveva il coraggio di andare in battaglia tutti se ne stavano a casa allora ma davide disse e ci andrò io ci andrò perché il signore che mi ha difeso dalla zampa dell'orso e del leone allora quando io pascolavo le greggi di mio padre sarà lo stesso dio che mi darà la vittoria su questo incirconciso e quando si presentò davanti a golia davide gli disse io vengo a te nel nome del signore degli eserciti e come sapete con una pietra lanciata per mezzo di una fionda lo colpì e lo uccise non fu certo quello a dargli la vittoria ma fu la fede nel signore che gli permisse di ottenere quel risultato e dio ci aiuti anche noi ad avere fiducia in dio nel combattimento che ogni giorno dobbiamo affrontare affinché possiamo essere più che vincitori in ogni battaglia della nostra vita e un giorno possiamo entrare nella gloria di dio sentendoci dire quelle belle parole che gesù porti in una sua parabola ben fatto fedele servitore entra nella gioia del tuo signore che la grazia la presenza l'amore la guida di dio ci accompagnano ancora oggi pace a tutti quanti voi grazie a tutti